Fabian, storica azienda trevigiana del design della luce, si riaccende lunedì 11 giugno, dopo un periodo di crisi che ha portato la ditta sull'orro del fallimento. Luca Pellegrino, titolare di DominoLED, azienda leader di sistemi di illuminazione a LED, ha rilevato la Fabian e ora si presta a rilanciarla. Il neo titolare mira a mantenere tutto quello che di buono c'è nell'azienda, rendendola però più tecnologica e competitiva. Il marchio Fabian, che è un marchio prestigioso, è appunto un marchio Veneto. Poi io sono di Castelfranco quindi la realtà la conoscevo sia come posizionamento nei mercati italiani ma soprattutto esteri. Un'altra cosa molto interessante è che il marchio Fabian è ben visto come made in Italy, quindi io ci credo molto ancora nel made in Italy, nel design. E ho trovato nella realtà, sono molto contento con quello che ho trovato perché sono dipendenti molto qualificati. Questa è una prova di coraggio per me e anche per tutti i quelli che lavorano con me. Insomma, perché comunque rilanciare un marchio che ha bisogno di essere sgrezzato, portando tutti gli apparecchi con luce tradizionali e trasformano tutti quanti a LED per risparmi e per tutti i vantaggi che porta il LED in questi anni. Un'altra cosa molto interessante e non l'ultima è il fatto che Fabian riesce a fare delle realizzazioni molto interessanti su molti alberghi soprattutto e la mia esperienza sul LED porterà a fare il progetto intero, non solo come parte della decorativa ma anche come parte completa di un progetto. Le faccio un esempio perché sennò entriamo in tecnicismi che sarebbero difficili. Fabian può fare le hall, può fare le camere, con la tecnologia che porterò con la Domino, però sempre a nome Fabian, potremmo fare la piscina, gli esterni, le zone spa. Tutto quello che adesso un fornitore dovrebbe rivolgere due interlocutori. Qual è il vantaggio? Che questa abbinata diminuisce anche i costi perché quello che per me adesso è un LED normale che io inserisco su un apparecchio farlo qui in Fabian voleva dire progettare tutto, invece io ho già un progetto pronto, vado e sostituisco. E l'incontrario, quello che per me adesso è una parte decorativa che Domino non produce, dovrei diventarmi stampi. Cioè è una sinergia per risparmiare e portare i due marchi, soprattutto quello di Fabian, a essere ancora più incisivi nel mercato internazionale soprattutto.